Io resto a casa perché è l'unica cosa buona che possiamo fare per noi e per gli altri e quindi ho più tempo per leggere. Ho scelto per voi due poesie molto brevi di due autori kurdi che ci regalano un po' di leggerezza in questo periodo così difficile. La prima poesia si chiama Candela e l'autore è Kabat. Candela Stanotte come altre notti tengo il cielo sveglio per comporre una poesia. Appena scritta mi arrampico lungo il filo di malinconia per raggiungere la tua camera buia. Silenziosamente sulla spagliera del letto distendo i miei versi, li trasformo in candela e li accendo per te. La seconda poesia è davvero così leggera come un soffio e io poi l'ho trasformata in un racconto, in una favola e l'ho raccontata appunto, l'ho narrata ai miei nipoti. La canna e il vento, l'autore è Scherko Bekas. Non era mai accaduto. Nel boschetto gli alberi erano tutti innamorati di una canna, una cannuccia sottile. Chiamava invece il vento, il vento che porta la pioggia. Così il boschetto l'aveva ripudiata. La canna, innamorata, rispose Per me questo va bene. Voi state pure da una parte, che dall'altra c'è il vento della pioggia. Così vuole il mio cuore. Il boschetto offeso sentenziò la morte per quell'innamorata dagli occhi di ruggiada. Chiamò il picchio dal becco forte e il picchio colpì nel cuore tre, quattro, cinque volte nel cuore della piccola canna. Da quel giorno la canna innamorata divenne un flauto e da quel giorno le ferite degli amanti parlano con le dita del vento e cantano ovunque nel mondo da quel giorno. Ciao Grazie a tutti.